Ragazzi oggi vediamo un tool pazzesco ragazzi, possiamo aprire uno store in dropshipping in tre minuti, in tre minuti selezioniamo il prodotto che vogliamo vendere in dropshipping andiamo su questo tool che si chiama PagePilot, lui ci crea lo store altamente convertoso nel senso che converte con tutti i crismi, poi lo colleghiamo a Shopify e possiamo vendere tutti gli acquisti che vengono fatti sul nostro sito poi vengono spediti da un fornitore sapete cos'è il dropshipping? Ovviamente possiamo andare su Aliexpress, scegliere un prodotto, crearci uno store intorno andare su Shopify che è la piattaforma principale per fare dropshipping, ci colleghiamo il prodotto allo store e quindi tutti quelli che comprano sul nostro sito noi non dobbiamo fare niente, sarà in automatico si creerà l'ordine per il fornitore che spedirà al cliente o possiamo automatizzare tutto questo oppure semplicemente noi andremo ad acquistare manualmente su Aliexpress quando avremo ricevuto un ordine manualmente tu vai, compri il prodotto e come indirizzo di spedizione metti quello del cliente tu il prodotto non l'hai mai toccato e puoi fare un margine anche perché su Aliexpress ci sono dei incredibili prodotti il mio consiglio poi è di prendere prodotti che costano poco, per esempio io oggi voglio creare uno store intorno all'anello multifunzionale, ok? Anello multifunzionale in acione inossidabile per coppie l'umore cambia, bla bla bla, ci sono vari colori, a me basterà prendere il link di questo prodotto darlo in pasto a PagePilot e lui creerà assolutamente lo store in automatico poi lo collego a Shopify e il gioco è fatto poi il consiglio è sfruttare anche il traffico organico posso andare su TikTok, prendere video di coppie, ok? che fanno qualcosa, aprire una pagina Instagram la pagina delle coppie, ok? pubblicare questi Reels, fare traffico puoi fare una campagna pubblicitaria con Instagram è possibile far vedere il nostro prodotto, del nostro store a tutte le persone che hanno guardato i Reels e ottenere delle vendite perché se io creo una pagina Instagram ok? creo una pagina Instagram che ha dei Reels che è di un certo argomento un argomento su cui ho creato, sviluppato un prodotto fisico in questo caso l'anello multifunzionale ragazzi iscrivetevi al canale perché queste sono veramente un sacco di valori in questo video vi spiego come aprire uno store, ok? in automatico con l'intelligenza artificiale in dropshipping, come vendere e anche strategie di advertising con Instagram per esempio o Facebook, ok? quindi iscrivetevi al canale per supportarmi commenta, Miki ci mancava il dropshipping con l'intelligenza artificiale commentate subito allora, quindi io scelgo un prodotto, vedete la stravidicola strategia poi andiamo nel pratico, vi faccio vedere tutto e come un tool, come PagePilot ci può aiutare noi andiamo su AliExpress scegliamo un prodotto, ok? quindi io ho scelto questo anello multifunzionale per le coppie, ok? non so cosa sia però è per fare un esempio facciamo finta che sia un prodotto per le coppie per avere, diciamo misurazione della temperatura per stare insieme non lo so è un esempio ok, questo prodotto quindi è per le coppie apro una pagina Instagram la pagina delle coppie oppure amore di coppia vita di coppie ecco creo una pagina Instagram vita di coppia vado su TikTok e vi faccio vedere su TikTok, no? per esempio scrivo coppie ok? e ci sono tutti questi video guarda di gente che fa cose video simpatici cose un po' così e creo una pagina vita di coppie su Instagram scarico questi video una pagina un po' hot scarico questi video ok? li carico su Instagram come reel ok? intanto costruisco il mio vabbè per costruire il mio store con page pilot ci metto due secondi adesso vi faccio vedere tutti questi video di persone di coppie ok? li carico nella mia pagina Instagram vita di coppia ok? attraverso poi le facebook ads attraverso appunto la pubblicità su facebook attraverso appunto la pubblicità che si può fare su Instagram posso impostare una campagna dove faccio vedere il mio prodotto che è un prodotto per le coppie adesso questo anello che ancora non ho capito però capite l'esempio e applicatelo poi a quello che volete fare come pubblico semplicissimo cioè non dovete fare target cose non dovete essere esperti come pubblico creo una campagna faccio vedere fai vedere il prodotto ok? a tutte le persone che hanno visto i reels per intero saranno video di un minuto quelle persone comunque sono interessate hanno consumato video di coppia magari gli interessa a comprare un ho scelto una categoria comprare un prodotto per la coppia ora forse l'anello funzionale ma sono quasi porno una cosa che amo fare alla mia ragazza ma io su TikTok non ci vado ragazzi ho un account da 10.000 follower nella musica ma non ci entro quasi abbandonato ok? però è un esempio funziona prendete i video create vita di coppia fate la pubblicità allora andiamo a vedere adesso pagefile.iei a.i a.i ok? vi loggate allora costa tipo 20 dollari al mese anche questo ci sono tre comunque giorni gratis che potete provare allora però questo esempio dell'anello non mi piace più l'ho già fatto ok quando mi diciamo sono studiato la piattaforma prendiamo un altro un altro prodotto io vi consiglio prodotti che sono piccoli che costano poco così così potete cinturino magnetico potete diciamo risparmiare sulle spedizioni però proviamo a fare un brand di abbigliamento un golf nuovo maglione da uomo ok? certo su tiktok cosa cerchiamo? un maglione? cioè capite dovete scegliere il prodotto in base anche poi a come pubblicizzarlo poi ovviamente potete anche fare una pagina su instagram e poi anche vendere in organico mettendo un link no maglione non mi piace cerchiamo qualcosa che possa essere interessante braccialetto ora questa ricerca su aliexpress c'è di tutto possiamo cercare anche in base alle categorie però qualcosa che poi possa essere diciamo collegato a dei contenuti da mettere sui social allora vediamo braccialetto fascino energia per la salute per l'artrite ok? braccialetto che cura l'artrite questo è 1 euro e 95 ok? ho scelto questo prodotto vado su page pilot mi registro mi loggo e clicco quindi page pilot punto ai detta in italiano clicco su generale vuole l'aliexpress link ok? ed eccolo qua glielo mettiamo qua e poi vuole il titolo del prodotto il titolo questo chiudiamola braccialetto di fascino braccialetto questo qua anzi mettiamoglielo tutto forse mettiamoglielo tutto forse tutta questa scritta lo aiuta mettiamo il linguaggio io voglio fare un negozio in italiano perché creerò una pagina contro l'artrite magari su instagram clicco generate e veramente ragazzi in 3 minuti stima un tempo di 3 minuti in 3 minuti lui crea lo store ed è uno store che diciamo almeno la promessa di quest'app è che comunque crei uno store che sia fatto bene che sia costruito in modo da poi ottenere delle vendite se noi ci buttiamo traffico sopra otteniamo vendite perché la gente guarda legge scritto tutto in copy e poi acquista quindi tutto fatto in automatico poi io prendo lo store che mi ha dato ci collego il mio store su shopify ed è fatta ed è fatta ho il mio store poi ovvio il problema del dropshipping dell'e-commerce portare traffico sul sito però abbiamo i social come vi ho fatto vedere una semplice strategia che può sfruttare anche il traffico organico ma anche la pubblicità in un modo semplice senza impazzire creando un pubblico personalizzato che quindi mostra il mio annuncio solo alle persone che hanno visto i reels per esempio se usiamo i contenuti di tiktok per caricarli su instagram se volete un approfondimento anche video sulle facebook ad instagram ad se vi interessa scrivetelo nei commenti se vedo tanti commenti in tante persone che me lo richiedono posso fare un tutorial anche su quello e iscrivetevi al canale commentate veramente perché mi aiutate tantissimo in questo canale trovate un sacco di materiale ok di video di corsi andate nella playlist corsi completi gratis per guadagnare online mi raccomando mi raccomando vediamo quanto ci sta mettendo bisogna aspettare lui dice tre minuti non so se sono passati comunque prima ma magari non sono tre ma sono cinque è comunque un qualcosa che sta lavorando al posto vostro e sta facendo tutto in automatico ne approfitto per presentarvi per chi magari mi vede per la prima volta io sono Michele Maragli io faccio business online dalla fine del 2016 se ti interessa il business online iscriviti a questo canale perché io praticamente qui condivido praticamente gratuitamente tantissima mia esperienza io ho un altro canale si chiama Michele Maraglino musica dove vengo dalla musica e lì ho iniziato a vendere videocorsi infoprodotti consulenze e quindi ho acquisito un'altra serie di competenze perché se prima lavoravo ho aperto la mia casa discografica il mio ufficio stampa e lavoravo nella musica nel momento in cui ho creato dei videocorsi ho dovuto imparare diciamo come venderli online ho dovuto imparare come fare video come vendere nei video il marketing il digital marketing appunto la pubblicità online facebook ads e tutto quanto e in questo canale aperto nel marzo del 2022 condivido tutto gratuitamente quindi iscriviti a questo canale è proprio esperienza diretta tra l'altro non vendo niente a parte le consulenze in descrizione trovate la mia mail se volete aprire un business online e essere seguiti da me e c'è anche il mio programma Marrakesh se volete avviare un business con youtube o aprire un canale youtube oppure creare un cash cow channel vi posso seguire da vicino proprio aiutarvi a lanciare il vostro canale youtube proprio come ho fatto con questo canale youtube che l'ho portato da zero cioè da sì da zero a 10.000 euro al mese di fatturato in soli 15 mesi posso farlo anche con voi il link è in descrizione comunque vi basta andare su cash.michelmaraglino.com ok per tutti quelli che vogliono lavorare lanciare un canale youtube essere seguiti direttamente da me c'è un ci sono due ore di consulenza c'è un videocorso completo ci sono quattro video pronti e occhio che il prezzo sta per aumentare è già aumentato quindi se vi interessa andate su cash.michelmaraglino.com mi raccomando intanto qui iscrivetevi al canale e commentate ci tengo intanto qui sta caricando ancora non è ancora finito ma poi andremo a vedere il risultato abbiamo selezionato come lingua l'italiano diciamo che sono passati un po' più di di tre minuti ed eccolo qua ragazzi alla fine si un po' più di tre minuti ma ci siamo pochissimo tempo braccialetto magnetico terapia drago stile alla moda europeo americano per lui e lei aiuta nel salivo dell'artrite formisce potenza magnetica terapetica energizza il tuo stile scelta di colori a tema drago questo braccialetto ci sono pure le recensioni unisce stile e benessere il nostro braccialetto magnetico terapia drago non è solo un accessore alla moda ma offre anche una terapia magnetica potente per alleviare il dolore artritico aumentare il tuo livello di energia lo voglio ai dolore all'artrite con un braccialetto guardate qua tutte le recensioni è una pagina diciamo se io faccio aggiungere il carrello ovviamente non succede niente però andando qui su action possiamo no vabbè possiamo anche scaricare l'html ok quindi aprire se siamo bravi possiamo aprire lo store noi ok quindi abbiamo un sito internet possiamo vendere questi siti internet oh mio dio potete mettervi a vendere store in automatico per esempio anche se non sapete fare i siti internet posso scialare l'urlo posso scialare l'urlo vediamo copy ah vabbè certo ed è la url del nostro store va bene però la cosa che possiamo fare è connetterlo a uno shopify store così diventa uno store vero dove poi è possibile praticamente fare gli ordini e quant'altro quindi dobbiamo aprire un account su shopify quindi connetti su shopify molto importante ok dovete guardare tutto questo tutorial ma adesso ve lo spiego io siamo su shopify ovviamente andate su shopify.com adesso c'è una promozione vedete un euro per tre mesi potete provare shopify credo che sia addirittura 15 giorni gratuiti e poi diciamo un euro al mese c'è una promozione poi non so ci sono vari piani comunque poi qui sopra avete i vostri negozi quindi voi magari dopo che vi siete registrati non avrete niente io ho fatto un po' di prove crea negozio dovete creare il negozio ok qua schippate tutto andiamo direttamente sì Italia il mio account e ora sta creando diciamo il negozio quindi una volta che avete creato il negozio dovete diciamo metterci un po' le mani modificare creare diciamo mettere il nome del dominio dovete modificare tutta una serie di impostazioni e poi rendere pubblico dovete inserire il metodo di pagamento potete mettere paypal e poi rendete pubblico il vostro store ok ed eccolo qua qui ci sono tutte le cose che dobbiamo fare aggiungere un prodotto customizzare lo store online mettere un dominio per esempio facciamo add dominio magari noi appunto vogliamo fare questo è l'indirizzo lo vogliamo modificare magari vogliamo mettere diciamo di default Shopify ti dà appunto il nome negozio punto myshopify.com qua facciamo magari passa un nuovo dominio myshopify così lo modifichiamo mettiamo bracciali ovviamente c'è artrite shop bracciali artrite che cavolo ho scritto bracciali bracciali artrite shop è disponibile quindi aggiungi dominio e abbiamo creato ok vedete bracciali questo è il nostro negozio bellissimo bracciali artrite shop quindi abbiamo il nostro il nostro url andando a creare qui lui ci fa vedere tutto un tutorial su come noi dobbiamo installare e creare in realtà diciamo che non è proprio automatico la connessione dobbiamo farla manualmente dobbiamo noi creare l'app di page pilot all'interno di Shopify vi faccio vedere come funziona questa è una guida completa ragazzi iscrivetevi al canale supportate perché veramente queste cose non ve le fa vedere nessuno ve le fanno pagare quindi bisogna andare su app qui ok impostazioni app e canali di vendita sviluppo app qui in alto a destra consente lo sviluppo di app personalizzate si quindi crea un'app nome app mettiamo ovviamente page pilot ok pilot crea app dopodiché andiamo a configurare ok li mettiamo praticamente su configurazione credo sia configurazione admin api si dobbiamo andare su prodotti e temi eccolo qua ordini ordini quindi in ordine alfabetico prodotti selezioniamo uno e due selezioniamo prodotti e selezioniamo anche temi settiti temi ok dopodiché andiamo su salva che la troviamo anche qui in alto a destra salviamo configurazione salvata andiamo su install app qui in alto a destra installa ora lo sto installando su love love anello my shopify punto com avrei dovuto farlo sull'altro vabbè giusto per farvi vedere dopodiché mettete questo indirizzo qui su page pilot ok e poi mettete visualizza token una volta copiate questa chiave e la mettete qui fate connect to store e il gioco è fatto wow l'ho connesso su shopify questo è l'altro quello col braccialetto innamorato e quindi ho su quindi qual era l'indirizzo pazzesco no questo è shopify no questo è braccialetto doveva essere love anello my shopify punto com vabbè lo store non è aperto non è aperto perché io praticamente non ho fatto tutta la configurazione ma nel momento in cui lo vado a diciamo connettere diciamo love voglio vedere tutti i miei negozi una volta che vado su love qui dovrebbe essere uno di questi che io poi ho rinominato ora non so qual è però voi vabbè io ho fatto un sacco di prove una volta che ho messo il primo prodotto risolto tutte queste task ho praticamente reso pubblico dobbiamo customizzare il dominio impostare i pagamenti ho le rate tutto quanto una volta che è pubblico abbiamo pubblicato lo store che poi è collegato qui con page pilot se io faccio un resync store pazzesco pazzesco quindi possiamo con l'intelligenza artificiale scusate ho capito con l'intelligenza artificiale noi possiamo creare uno store prendere un prodotto dall'iexpress un bar non pasta page pilot ci crea ci crea lo store in automatico prendendo le informazioni dal prodotto dall'iexpress possiamo collegarlo a shopify e quindi gestire tutto da shopify ovviamente quando andiamo a creare lo store add your first product dobbiamo aggiungere il prodotto che abbiamo scelto in questo caso era l'anello direttamente su shopify add product e scriviamo diciamo tutte le caratteristiche poi facendolo così in modo semplice manualmente quando qualcuno andrà a comprare dobbiamo sul nostro store dobbiamo comprarlo sul praticamente su aliexpress sul sito sulla pagina del fornitore e poi mettere l'indirizzo del del cliente che a cui arriverà l'anello però ecco noi il prodotto non lo tocchiamo proprio ok mi sembra molto interessante per partire ok fatemi sapere se vi interessa questo argomento il drop shipping se volete magari un tutorial su shopify più accurato ve lo posso fare qui era tutto nell'ottica di farvi vedere questo tool di intelligenza artificiale page pilot mi sembra una bomba fatemi sapere nei commenti iscrivetevi al canale supportate commentate e vi asfettano i commenti numerosi voglio proprio sapere cosa ne pensate se volete approfondimenti scrivete voglio vedere tanti commenti magari vi faccio un tutorial però già qui abbiamo visto come anche fare una strategia quindi noi scegliamo il prodotto ok in base al prodotto che scegliamo lo dobbiamo scegliere in un'ottica anche social posso creare una pagina con diciamo un argomento inerente a questo prodotto si ok scelgo questo prodotto creo una pagina instagram per esempio scarico i video da tiktok e li metto su instagram appunto su quell'argomento poi faccio partire il mio store con page pilot in due secondi lo collego a shopify e una volta che diciamo la gente inizia a guardare i miei reels per esempio su instagram posso fare anche della pubblicità far vedere il mio prodotto il mio store a tutte le persone che hanno visto i reels per intero e gente in target che può acquistare oppure semplicemente in organico potete creare voi dei contenuti aprire aprire diciamo delle pagine internet scusate delle pagine social su tiktok instagram e con i vostri contenuti e cominciare a promuovere il prodotto potete fare tutto quello che volete iscrivetevi a questo canale se volete approfondire ovviamente con page pilot vedete vi permette anche di scaricare il codice html dello store potreste vendere siti internet creare il tuo e-commerce magari aprire una un gig su fire e vendere anche siti internet anche se non li sapete fare potete fare tutto quello che volete l'intelligenza artificiale è una bomba stanno uscendo una marea di tool incredibili iscriviti al canale se non vuoi perderti tutti gli aggiornamenti che io porto vi porto solo le migliori app e vi aspetto nei commenti supportate il canale iscrivetevi e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao